buonasera per l'ultima lettura del mese della memoria ho scelto un brano tratto dal libro di giorgio bassani il giardino dei finzi contini prima vorrei fare un passo indietro e raccontare però qual è stato il caso sbelli ovvero il pretesto per arrivare alla stretta finale della persecuzione contro gli ebrei e promulgare poi le regi laziali il 7 novembre del 38 all'ambasciata tedesca di parigi un ragazzo di 17 anni ersher grunspan si chiamava ha sparato contro il diplomatico tedesco eduarda fra i due pare che ci fosse una relazione omosessuale però sembra che tali tesi servisse solo per sostenere il muovente del delitto passionale evitando così la pena di morte al ragazzo di 17 anni il motivo accettato è invece quello della vendetta personale perché il ragazzo ha voluto che pare che nemmeno conoscesse von rat pare gli abbia spiarato per vendicare i patimenti affrontati dai genitori durante l'esilio forzato dalla germania alla polonia nel 38 e quindi pare che abbia scelto questo diplomatico tedesco solo come capro espiatorio ovviamente tale evento ha scatenato l'ira del terzo reich i quali hanno deciso le modalità in seguito a questo evento per agire definitivamente contro gli ebrei promulgate le leggi razziali gli ebrei sia in italia che in europa che ormai erano perseguitate con grosse limitazioni sia la libertà personale che alla vita sociale lavorativa ed economica già dal 33 hanno subito un'ulteriore stretta raccontata in modo molto sottile nel libro di giorgio bassani il giardino dei finzi contini questo libro è stato tratto dalla storia è stato tratto bassani si è ha romanzato chiaramente la storia vera del presidente della comunità ebraica di ferrari che si chiamava silvio magrini insieme alla moglie albertina la figlia giuliana viveva in una grande villa descritta poi nello stesso romanzo magrini fu dapprima arrestato e ricoverato all'ospedale di ferrara novembre del 44 successivamente a febbraio sempre del 44 fu tradotto ad auschwitz dove poi è morto la moglie nel frattempo era stata nascosta nella casa di campagna dalla madre e quando è venuta a sapere delle sorti del marito è tornata precipitosamente a ferrara ma anche lei è stata tradotta e uccisa poi ad auschwitz a maggio del 44 nel pezzo di libro allora nel libro di bassani che vi leggerò si avverte per tutto il libro un clima di disagio crescente si respira l'abbicinarsi di qualcosa di sinistro nello stesso tempo inevitabile non è mai violentemente esplicitata la deportazione o la violenza ma bassani riesce a trasmettere un disagio un disagio crescente e un inquietudine latente ora vi leggo un brano del ragazzo che ha subito le prime limitazioni di uno dei protagonisti che ha subito le prime limitazioni aveva avuto la bella idea cominciai a raccontare di trasferirmi con i miei libri e con le mie carte nella sala di consultazione della biblioteca comunale in via scienze ma dove mi conoscevano fin dall'epoca del ginnasio intendiamoci bene un luogo dove avevo bazzicato prestissimo dato che là appunto ero solito riparare ogni qualvolta un'incombente interrogazione di matematica mi consigliava di marinare la scuola era quella una seconda casa per me dove tutti specie da quando mi ero iscritta lettere mi avevano sempre colmato di gentilezze da allora il direttore dottor ballola aveva cominciato a considerarmi del mestiere per cui non c'era volta che scorgendomi in sala non venisse a sedersi accanto a me e non mi mettesse a parte dei progressi di certe sue medicinari ricerche attorno al materiale biografico dell'ariosto custodito nel suo studiolo particolare ricerche con le quali si riprometteva era lui a dirlo di superare decisamente pur cospicui risultati raggiunti in questo campo dal catalano e cosa dire dei vari inservienti esse si comportavano nei miei confronti con tale confidenza e familiarità da dispensarmi solitamente dalla noria di riempire l'apposito modulo per ogni volume richiesto in lettura nonché da consentirmi nei giorni di scarso pubblico di fumare addirittura qualche sigaretta dunque come dicevo quella mattina mi era venuta la bella idea di passare in biblioteca se non che avevo appena avuto il tempo di sedermi ad un tavolo della sala consultazione e di tirar fuori dalla borsa di pelle quanto mi occorreva che subito uno degli inservienti tale poledrelli un tipo sui 60 anni grosso gioviale celebre mangiatore di pasta asciutta incapace di mettere insieme due parole se non in dialetto mi si era avvicinato per intimarmi di andarmene immediatamente facendo rientrare il pancione tutto impettito riuscendo perfino ad esprimersi in lingua l'ottimo poledrelli aveva spiegato a voce alta ufficiale come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi per cui aveva ripetuto facesse senz'altro il piacere di alzarmi di sgomberare la sala di consultazione quella mattina era particolarmente affollata di ragazzi delle medie la scena era stata seguita in un silenzio sepolcrale da non meno 50 paia di occhi ed altrettanta paia di orecchie ebbene anche per questo seguitai non era stato affatto piacevole per me tirarmi su raccogliere dal tavolo libri e carte rimettere il tutto nella borsa e quindi raggiungere passo dopo passo il portone a vetri dell'ingresso va bene quel disgraziato di poledrelli non aveva eseguito che degli ordini però stesse molto attento lui malnate se per caso gli fosse capitato di conoscerlo non era escluso che anche poledrelli appartenesse alla cerca della maestra trotti stesse bene attento lui a non lasciarsi ingannare dalla falsa apparenza di bonarietà da quel suo faccione plebeo dentro quel petto vasto come un armadio albergava un cuoricino grande così ricco di lingua popolare d'accordo ma per niente fidato